buongiorno ragazzi oggi siamo a celleno borgo fantasma del lazio e quella che vi mostriamo è un'antichissima bottega del pane che grazie all'opera dei volontari del posto è stata mantenuta proprio così come la potevate vivere tra fine ottocento e primi novecento guardate qui c'erano tutti i filoni di pane le pale dove si metteva appunto la forma di pane per poi essere infornata qui in questo grande forno vedete guardate siamo proprio all'interno del forno qui venivano cotte le pagnotte proprio che poi venivano servite la mattina per tutto il paese quindi una bellissima ricostruzione ci troviamo nel lazio gioiello davvero da scoprire celleno fra i borghi del lazio e tra l'altro nella ricostruzione degli ambienti del luogo c'è anche proprio la tipica cucina dei contadini del tempo allora innanzitutto vi facciamo vedere una panoramica generale del borgo e poi guardate questo che è l'ambiente veramente dove si riunivano per mangiare quindi come vedete proprio le primizie della campagna ci sono delle radio antiche delle antiche macchine da cucire vedete vedete ecco le castagne naturalmente questa zona di boschi quindi non possono mancare le castagne abbiamo l'immagine votiva della madonna di pompei e ecco questa è proprio la tipica cucina di un tempo vi faccio vedere brevemente quella che è la piazza principale del paese passando attraverso alla le taverne dove veniva conservato il fieno guardate un'altra bellissima immagine del borgo e quella che era la piazza con l'antico campanile e l'edificio posta e telegrafi la piccola chiesetta guardate che meraviglia c'è il cartello che ci dice benvenuti nel borgo fantasma e poi concluderemo il nostro giro con quello che è l'angolo del bacio guardate adesso vi diamo appunto appuntamento a prossime puntate su viaggi e volti discovery channel follow us on instagram to seguiteci anche su instagram e iscrivetevi al canale subscribe the channel un saluto da celleno dalla piazza enrico castellani e da questo meraviglioso borgo del lazio tutto ancora da scoprire vi lasciamo con il meraviglioso panorama sulla valle dei boschi circostanti a presto ragazzi